Sì, papà, perché picchi la mamma? Sei cattivo! Ma che stai dicendo? Non ho mai picchiato tua madre. Invece sì, l'ho sentita. E sentiamo quando? Ieri notte. Ti diceva, fai piano, mi fai male. No, ma chi hai capito? Si era solo fatto male, ecco. Le stavo curando una ferita. Vabbè, dar un po' è vero controlare.